Sono Coma Ledogar, ciao a tutti gli amici di Nisceto TV. Coma Ledogar, come mai a San Pierniceto? Vengo a San Pierniceto per trovare la potenza di vincere le gare. E in quale gare partecipo ultimamente? Faccio l'endurance, faccio il GT World Challenge e le 24 ore di Le Mans. La tua vittoria è più bella? Penso che quest'anno ce ne sono due, che sono le 24 ore di Spa e le 24 ore di Le Mans. Grazie a Coma Ledogar per la gentilezza e simpatia. Grazie a voi. A San Pierniceto in questi giorni ha trascorso un breve periodo di relax il pilota automobilistico Coma Ledogar. Vacanze trascorse nella quieta della casa dei nonni materni sulle colline di San Pierniceto. Coma Ledogar è un pilota automobilistico professionista di naturalità francese ma con una buona dose di sangue sanpietresa. Tra le sue vittorie più prestigiose ricordiamo il titolo assoluto vinto della Blinds Pain GT Series Endurance Cup nel 2016 con Robert Bell e Shane Van Giesbergen e per aver vinto nel 2021 la 24 ore di Spa e la 24 ore di Le Mans nella classe GTE Pro guidando una Ferrari 488 GTE Evo. Coma Ledogar è molto legato a San Pierniceto in quanto fin da bambino ha trascorso le vacanze estive a San Pierniceto e ogni anno nonostante i molteplici impegni trova il tempo per trascorrere qualche giorno di relax nella quieta della contrata di San Marco e inoltre per sottolineare i legami con il paese di origine del nonno Peppino Nuccio qualche anno fa dopo un triunfo ha dedicato la vittoria proprio al paese di San Pierniceto. Da parte di tutto lo staff di Vicetto TV Web un grazie di vero cuore per la disponibilità e gentilezza di Coma Ledogar nei nostri confronti e per l'ospedalità ricevuta dal signor Nuccio Peppino e grazie anche ad Antonio Buonarico per aver fatto da tramite per conoscere e intervistare il grandissimo Coma Ledogar. Grazie a tutti.